Buongiorno cari amici di Barba Bianco-Rossa, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, distanza di giorni, analizziamo un pochettino la partita di Ascoli-Bari, ma trattiamo anche qualche altro argomento inerente alla situazione attuale del Bari sia in ottica mercato che in ottica infortuni. Cominciamo con il fatto più fresco, quello degli infortuni, perché Cuzzupias ovviamente per via della rottura del crociato dovrà rimanere fermo per alcuni mesi, come purtroppo accade in questo tipo di infortuni, si parla tra i 5 e i 6 mesi, quindi come lo è stato per Maiello, come lo è stato per Menez, i tempi più o meno sono quelli, quindi potremmo azzardare dicendo stagione praticamente finita per il centrocampista greco. Per quanto riguarda il calciomercato, per quanto riguarda il calciomercato, c'è stata la presentazione di Puskas, ieri ha parlato, naturalmente felice di essere ritornato nella piazza barese, confida molto nel suo apporto, del contributo che riuscirà a dare l'impatto avanzato della squadra di Marino, andando a comporre insomma quel tridente insieme a Sibilli, a Callon, con le eventuali entrate di Menès, di Dio. Si segue comunque il profilo di Gugliebre del Burkina Faso, terzino sinistro, o quanto più si cerca di trovare un alterego di Dorval a sinistra, quindi Gugliebre potrebbe essere uno dei profili, dei nomi più papabili, ecco, in via, speriamo, in via di definizione della trattativa, il giocatore ovviamente è impegnato in Coppa d'Africa, vediamo se ne parla, probabilmente sotto c'è una trattativa, staremo a vedere come si concretizzerà nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la partita, abbiamo detto, come ho titolato nel video, abbiamo visto un Bari a due facce, a due volti, il primo tempo giocato benissimo dalla squadra di Marino, in grado di andare con quel 1-2 iniziale, rigole di Sibilli e gol di Ejumat, mi veniva, primo gol con la maglia del Bari e Ejumat che ha parlato anche in conferenza stampa dopo la partita, ha detto che adesso si sta sentendo meglio, si sta ambientando meglio, dopo i primi mesi iniziali un po' più difficili, grazie questo anche alla fiducia che gli è stata data dal generatore, ma il giocatore comunque sta mostrando segnali di positività, di ripresa, di condizione atletica, magari il controllo palla non è ancora uno dei migliori, però insomma sta dando il suo onesto contributo ed è arrivato anche a procurarsi il rigore e a marcare rete. Nella partita, ahimè, pareggiata, a questo punto potremmo dirlo tranquillamente, il lavoro titolato pareggio dal sapore amaro perché sul 2-0, con la fine del primo tempo il Bari ha due facce, il secondo tempo abbiamo visto tutt'altra squadra, una squadra sfilacciata, una squadra che probabilmente anche per via dei cambi che sono stati erronei, a mio modo di vedere, soprattutto quello di Callon per Pucino, insomma non andava fatto questo cambio, era munito Callon, ma fa niente, voglio dire quanti giocatori vengono ammuliti e poi vanno a concludere le partite in maniera tranquilla, quindi senza possibilità di incorrere in una doppia ammunizione. Era importante tenerlo in campo il giocatore della Sierra Leone perché ci dava superiorità numerica, poteva anche creare qualche grattacapo ancora nei contropiedi all'Ascoli, soprattutto considerando il fatto che la squadra marchigiana a quel punto doveva assolutamente alzare la propria linea difensiva, dovendo recuperare le reti di svantaggio. Quel cambio con Pucino è stato quasi un invito alla squadra di Mister Castori nell'offendere, nel creare intensità, densità, forza fisica, gioco sulle fasce, quindi il Bari è stato costretto a chiudersi quasi a Riccio in difesa, sperando in qualche contropiede, ma a quel punto non li avevi gli uomini giusti per fare i contropiedi. Ecco perché l'errore è probabilmente madre della partita perché ha molti significati e uno tra questi appunto il fatto di non avere quella pedina importante per poi andare ad ammazzare calcisticamente la partita in un contropiede visto che dovevano essere costretti ad attaccare i marchigiani e tenendo Callon che è uno dei profili maggiori per utilizzare le ripartenze me lo vai a togliere per mettere un difensore e mantenere il risultato. Un atteggiamento potremmo dire un po' attendista, un po' difensivista a quel punto da parte di Marino. Le partite in Serie B soprattutto sono sempre un'incognita, quindi bisogna sempre tenere il pallino del gioco, tenere la linea alta, attaccare sempre e dimostrare all'avversario di poter fargli male in qualunque momento. Mentre nel chiudersi, mantenendo il risultato, il più delle volte non va bene. Purtroppo questa volta non è andata bene perché poi Mendes con i suoi due gol ha paleggiato e portato in dote alla sua squadra comunque un punto in classifica molto più importante per loro che per quanto riguarda i colori bianco-rossi perché non smuove quasi niente il Bari a livello di classifica. Adesso attenderemo quelle che saranno le considerazioni prima della partita, ovviamente considerando anche l'aspetto del mercato che non è da sottovalutare in questi ultimi giorni che rimangono. Prossima partita casalinga contro la Reggiana ci dirà se questo viatico dal post-sosta iniziato con la vittoria contro la Ternara, col buon primo tempo contro l'Ascoli, poi mandato a quel paese purtroppo per via del pareggio e la partita casalinga contro la Reggiana ci dirà se il Bari ha imbroccato la strada giusta che è quella della fase offensiva, del creare molte e pericolose occasioni da gol e di impensierire gli avversari durante tutto l'arco della partita non giocare una sola frazione bene mentre l'altra frazione di gioco diciamo sedersi e amministrare perché non è ancora una squadra in grado di gestire il risultato, di amministrare lo stesso risultato, il gioco eccetera. Quindi attendiamo fiduciosi la conclusione del mercato con l'inserimento di qualche altra pedina importante si spera, credo che diciamo in attacco non ci sia molto da fare a meno che dovesse uscire qualche giocatore Lulic l'abbiamo visto poco quindi non possiamo esprimerci sulle qualità del ragazzo ovviamente lui come altri si devono ambientare nella piazza di Bari lo sappiamo sono discorsi triti e ritriti di quelli che diciamo sempre ma non per essere superiori rispetto a qualche squadra Bari comunque è una piazza importante è una piazza a volte anche molto esigente e quindi per i giocatori nuovi che arrivano insomma ambientarsi e lo abbiamo visto con il Giuma insomma corre del tempo mentre per Callon comunque che viene da una serie superiore a quella in cui sta giocando il Bari è stato facile inserirsi nei meccanismi speriamo bene incrociamo le dita che comunque il viatico che si è incominciato che è avuto inizio con la partita vittoriosa 3-1 contro la Ternano il buon primo tempo visto cerchiamo di prendere quel bicchiere mezzo pieno però a Marino dico insomma di pensarci bene e leggere soprattutto bene le partite nel momento in cui si vuole o si è costretti a fare comunque dei cambi cogliere l'attimo giusto ecco questa è la cosa più importante perché a volte si vanno a disequilibrare certi meccanismi che si sono creati in partita e purtroppo li abbiamo visti nostro malgrado col pareggio in casa dell'Ascoli dopo il doppio vantaggio per noi detto questo ragazzi appuntamento naturalmente nei prossimi giorni se ci sarà qualcosa di importante se no appuntamento video a caldo post partita di Bari Reggiana non è che se non mi sbaglio si gioca anche questa di domenica alle 16 e 15 quindi ci potrebbe essere la probabilità di fare magari qualche video o perché no iniziare a fare qualche live serale in questi giorni vi terrò comunque aggiornati sempre a Le la Bari a Le e buona giornata a tutti quanti voi mi raccomando iscrivetevi lasciate un like attivate la campana e buon dibattito nei commenti ciao un bacio a tutti quanti voi